Musica Cari telespettatori, buonasera. L'uomo copertina Time, ospite di questa settimana, è Walter Piloni, che è il titolare di una società che gestisce e commercia gli scooter elettrici. Ora, gli scooter elettrici sono un bel tema, perché in un periodo in cui si parla di smart city, di modello di città vivibile, di abbattimento dell'inquinamento, questo tema è particolarmente interessante. Ce ne vuole parlare? Ci spieghi la loro applicazione, la loro fruizione e quale sarà soprattutto il loro avvenire? Perché è una scommessa per l'avvenire in qualche maniera. Certamente è una scommessa, è una scommessa che altri paesi hanno già vinto, avendola intrapresa molto prima di noi. Per noi in Italia purtroppo tutto è molto nuovo e dobbiamo fare i conti un po'. Sono un po' le idee che piacciono ai nordici, all'Europa del nord. Ma anche all'Asia, direi Asia, Stati Uniti, Canada, anche America Latina. In Europa oggi vengono prodotti alcuni milioni di veicoli elettrici, in Cina 13 milioni lo scorso anno, giusto per dare un po' un'idea. Ecco, noi questo progetto che si chiama Ecomission, al cui interno ci sono tutta una serie di veicoli, ha trovato terreno fertile in Asia. Adesso la vera scommessa qual è? Quella di portare la fabbrica da Shanghai a Genova. Quindi noi a giugno inaugureremo questa nuova linea di produzione dove faremo un veicolo. Dove a Genova? A Sestriponente. A Sestriponente. Dove ha sede la nostra azienda da oramai 25 anni. Ho capito. Voi cosa puntate? Alla produzione specifica di scooter elettrici? Noi in particolar modo abbiamo richiesto e ottenuto dal TUV tedesco e dal WCA inglese l'omologazione di questo modello che si chiama Ecomission, scusate, Eco Jumbo. Eco Jumbo. In questo momento questa è la moto più venduta in Italia, moto elettrica naturalmente. La nostra vera scommessa è quella di diventare indipendenti rispetto al mercato asiatico, rispetto alla fabbrica cinese e quindi gestire in autonomia. Il problema sarà anche abbattere i costi per superare, va bene che c'è il problema del trasporto, per superare la concorrenza cinese che è un po' il problema clou di molte aziende. Più che altro diciamo il prezzo è importante indubbiamente, però uscire fuori da questo stereotipo che i prodotti cinesi siano comunque poco tecnologici, soggetti a guasti eccetera, ci ha indotto a produrre direttamente a Genova. Per superare l'handicap dell'immagine in una produzione tecnologicamente un po' più diciamo cagionevole, usiamo una parola medica. Sì, semplicistica. Ecco, semplicistica. Ecco, senta, lo scooter elettrico ha dei problemi sul suo utilizzo, cioè si dice, io glielo dico da ignorante, ma è la mia parte quella dell'ignorante quella che deve fare, si dice che sono economici, che non inquinano eccetera, ma che hanno un margine di autonomia relativa. Ecco, come si supera questo problema? Certo, anche l'automobile, anche i mezzi tradizionali hanno autonomia limitata, il concetto è che nel serbatoio ci va della benzina, i distributori di benzina sono moltissimi e quindi è molto semplice rifornirsi. Il problema dei veicoli elettrici, al contrario, qual è? Quello che mancano un po' di infrastrutture, ovvero sono assenti le infrastrutture in questo paese. Le colonnine di ricarica. Le colonnine per ricaricare. Per ricaricare. Quindi oggi il veicolo elettrico è di appannaggio di coloro i quali si muovono all'interno di un percorso noto. E limitatamente. Sì, ma 70 chilometri comunque che non sono per niente pochi, perché in un giorno 70 chilometri sono già una bella percorrenza. Vuol dire andare a sestilevante. E poi chiaramente in casa possono ricaricarsi il mezzo comodamente. Quindi per adesso se ne pensa l'uso molto cittadino, molto urbano. Assolutamente sì. Per ora percorsi lunghi fuori città è ancora… No, diciamo che ci si arriverà quando la tecnologia delle batterie sarà tale per cui a parità di superficie ci sarà molta più potenza da spendere per il motore. Questo è il problema fondamentale che la tecnologia dovrà risolvere. Secondo lei, soprattutto per l'uso urbano, al posto del motorino, della motoretta piccola, quella di bassa cilindrata, quella che usano i ragazzini per andare a scuola, questo potrebbe essere un mezzo con un grosso avvenire. Ha un grosso avvenire, ma già oggi i dati ci danno conferma che abbiamo visto giusto. Perché quando siamo partiti noi quattro anni fa, indubbiamente era talmente nuovo. Un mercato duro, insomma. Non c'era proprio un mercato. Dopo quattro anni noi, come le dicevo, siamo primi in Italia sulla vendita di questo mezzo. Insomma, questo vuol dire tantissimo per noi e ci sprona a proseguire in questa direzione. Quindi è anche una scommessa che ha tante facce, che è quella dell'ecologia, della città vivibile, la velocità contenuta, credo. No, la velocità, no, ecco, devo smentirla perché questo mezzo viaggia a 100 km orari, ad esempio, e quindi è una bella velocità. Beh, per una moto. Per una moto, senza contare che in città ha 100 km orari. No, è anche troppo. E' anche troppo, infatti. E' anche troppo. No, il potenziale è anche… Sì, c'è un potenziale. Il motore elettrico per definizione è più performante di quello endotermico. Nessuno lo sa, noi continuiamo a dirlo. Il motore elettrico non si consuma, non invecchia, non ha cadute di… E anche una durata nel tempo come metodo metallico. Il motore elettrico per definizione è eterno. Ho capito. Quindi costi zero, poi questi mezzi non pagano il bollo, pagano metà assicurazione. Con 30 centesimi fa il pieno di energia. Mi permette una battutaccia. Quando avremo finalmente anche le moto energia solare avremo risolto tutti. L'energia elettrica si può… Potrebbe essere… No, è una battuta. Diciamo il vettore, il vettore elettrico può essere anche quello del sole. Per cui uno si mette al sole, ricarica il motore e riparte. Assolutamente. E' una battuta. Senta, mi sembra un discorso molto interessante che valga la pena di essere ripreso. Quindi mi permetto di invitarla a nostra trasmissione o anche ad altre nostre trasmissioni al più presto. Buonasera ai nostri telespettatori. E a un'altra puntata di Time. Buonasera a tutti. Per capire nella scansione del tempo questa scommessa che risultati dà. In fondo, se avremo delle città meno inquinate, sarà bene per tutti e sarà una ricchezza per la collettività. Grazie a voi. Grazie a Piloni. Grazie a voi. Grazie a tutti.